Buongiorno a tutti, bentornati o benvenuti in un nuovo Vlogmas. Oggi iniziamo un pochino più tardi del solito, perché stamattina mi sono messa al montaggio del video, così mi sono tolta il pensiero intanto. Poi adesso volevo rifare il letto, ma noto che Gwenna si è piacevolmente accomodata con le lucette solite. Vabbè, adesso la disturberò e dovrò comunque rifare il letto. Comunque, il Vlogmas è in caricamento, quindi oggi almeno sarà in orario. È mezzogiorno e dieci e io oggi devo fare un po' di giretti, quindi voi verrete con me. Vi dico già che alle due devo andare dal dentista. Il mio dentista sta ad Ostia, quindi da una parte di Roma. E poi dopo dovremo andare alla metro, prendere la metro e andare dall'altra parte di Roma, cioè verso il centro. Perché devo passare un attimo alla Rinascente, che volevo provarmi le Balenciaga Triple S, che mi fanno impazzire. Le sto valutando da un po', soltanto di provarle oggi, non devo comprare nulla. Anche perché il modello che voglio io, quello bianco, nero, rosa, fucsia, non ce l'hanno, mi ha detto della mia misura. Quindi intanto proverò, insomma, per capire un po' il numero. Però devo andare alla Rinascente, perché è l'unico posto che ce l'ho. Adesso però, nel mentre che si carica il Vlogmas e prima di rifare il letto, magari quando si alza un attimino, le lascio le luci un po' soffuse, mi appropinco giù, così vedo intanto cosa prepararmi per pranzo, così pranzo prima, poi esco e vado dal dentista. Intanto vado in macchina e così anche per tornare non devo aspettare troppo tempo e riesco a fare tutto entro poco, perché andare al centro di pomeriggio è un po' un casino poi per tornare perché è pieno di gente, quindi cerco di andare il più presto possibile. Detto ciò, per pranzo, solito dilemma ragazzi, perché io cerco sempre di immaginare dei piatti, sì sono buoni, sì mi riempiono il giusto, senza essere troppo calorici. Non so bene come spiegarmi, ma penso abbiate capito. Però oggi ho troppa voglia di pasta, sapete che io non la mangio quasi mai, sia perché preferisco mangiare più cose proteiche, sia perché mi dà un po' fastidio. Allora ho deciso, mi faccio un sughetto con scalogno, sugo, guanciale, tipo una sorta di amatriciana, un po' così. Tra l'altro, tornando al discorso di ieri del grande fratello, però aspettate che sta luce gialla della cucina mi mette in paranoia, quindi ci mettiamo di qua. Ieri sera ha vinto Walter Nudo, allora sono rimasta un po' interdetta perché non pensavo potesse essere un probabile vincitore almeno fino a due o tre puntate fa, perché poi ho cominciato a rivalutarlo, l'avevo detto anche a mia madre guarda che vince lui e lei mi faceva, ma già l'anno scorso ha vinto un tipo simile, un po' mistico, un po' sulle sue, no? Daniele Bossari. Però a quanto pare piacciono questi tipi qua, o non lo so se è il GF che ha voluto farli vincere, perché tipo Giulia Selemi ha visto come è stata mandata fuori, cioè in un modo scioccante per me. Poi è uscito Francesco Monte, è ancora più shock, Silvia Probedi è ancora più shock? Non so, perché poi è sempre un programma televisivo ragazzi, per quanto io possa credere nella bontà delle persone, nella sua totale purezza, in realtà appunto poi si raggiostano un po' come vogliono. Però ecco, rispetto ad altri sono felice di abbia vinto lui, adesso qua mi si sta sbruciacchiando la cipollina, tra l'altro quanto è buono l'odore dello scalogno che frigge, madonna raga, sta proprio di casa. Adesso ci metto il guanciale e poi ci butto il sugo. Piattino finale, questi sono 40 grammi di pasta, le pennette quelle dei piccoli Barilla, il zucchetto e il parmesan. È l'una, quindi in ceria poi dopo dovrei prepararmi e andare. Sono in macchina pronta per andare, guardate, addirittura mi sono trucchettata oggi. E sulle labbra ho un nuovo gloss di Nabla, però adesso non mi sovviene il nome, comunque è quello con tutti i brillantini colorati. sugli occhi molto molto naturale, le sopracciglia le ho fatte soltanto con un gel colorato addirittura. E adesso appunto sto andando, l'unica cosa è che devo passare prima a fare benzina. E poi sono in leggero ritardo, non so perché raga, ultimamente sono sempre in ritardo. Io prima ero quella che arrivava sempre in anticipo. È arrivata con solo 10 minuti di ritardo, quindi mi ero molto soddisfatta. Toccata e fuga ad ostia, tempo mezz'ora. Già me ne sto andando via, sono quasi le 3. Ho fatto quello che dovevo fare, mi hanno dato le mascherine, tutte quelle che mi rimanevano, qua in borsa. Infatti queste le devo lasciare in macchina. E soprattutto devo correre in metro, così andiamo a vedere queste benedettissime scarpine. Anche perché appunto vi ho detto non voglio fare tardi. Sono dovuta scendere a Flaminio, quindi a Piazza del Popolo, eccola qua. Perché hanno chiuso due fermate della metro, quindi me la sto facendo a fette. Quindi con il mio affidato amico, perché io se no mi perdo, navigatore a piedi, mi appropinco verso l'arina e scende. Sono scazzatissima perché ancora, dopo mesi, la metro, soprattutto quella di Repubblica, è chiusa perché si erano rotte le scale mobili per quei turisti, eccetera, eccetera. Sono ancora chiuse. Sono ufficialmente tornata in macchina, scusate, sto cercando la custodia delle Airpods, così le rimetto a posto. Le ho comprate, raga. Lo so, avevo detto che non le compravo. Poi la ragazza si è messa a dire, eh ma questo colore non ritornano, ce l'hanno rifornite oggi. Che poi magari lo dicevo apposto. Però io mi faccio sempre infinocchiare, quindi alla fine le ho prese. Tanto mi conosco, faccio sì, no, forse, sì, no, forse. Quindi questo è il mio mega autoregalo. Non trovo la custodia. Il mio mega autoregalo di Natale, compleanno e di tutto l'anno prossimo. Come se io mi facessi pochi regali comunque durante l'anno. Quindi pazzesco. Adesso sarò un problema con mia madre. Questo paio di scarpe è un paio di scarpe un po' particolari. C'ho un conto le Speed Trainer, che sono le altre che ho. Quelle con la parra bianca fatte tipo a calzino. Che sembrano quasi normali. Queste qua sono una papagna. Infatti sono stata mezz'ora a provarle. E la ragazza mi guardava e mi diceva, so già cosa trovi di strano. Che sembra che ha il piedone enorme. Io porto 40. Questo ho preso il 39 perché sono enormi. Però nonostante ho preso il 39, sono comunque grandi. Cioè, ho lo stesso numero di Chiara Ferragno. Poi ho fatto tardissimo. Perché? Sono esattamente le 6. Sapete perché ho fatto tardi? Perché le metro oggi avevano questo problema. Ma non so se oggi o è da un po' perché ripeto un po' che non prendo la metro. Però praticamente l'unica fermata in cui sono potuta scendere e risalire poi, quindi sono dovuta tornare indietro, mi sono fatta tipo 7 km a piedi, è Flaminio. Quindi piazza del popolo. Adesso, infatti, sto morendo di fame. Io mi ero portata in borsa questi biscottini miei. Adesso li mangio. Però prima devo togliere l'apparecchio. E poi devo tornare a casa perché adesso è l'ora X del traffico. Niente, tra ieri e oggi il traffico mi perseguito. Ah, ma guardate, si vede anche così, mi vedo meno gialla. Adoro questa macchinetta. Perché sennò passa tutta la gente qua davanti, in più con la luce accesa, la videocamera. Dicono, questa già è pazza, sicuriamoci. Quindi dicevo, sono felice delle scarpe, eh. Mi ci devo un attimino abituare perché sono proprio tante. Questo pezzo sarà un po' un mukbang, ma sono comodissime. Infatti ho chiesto alla ragazza, posso provarmi anche le speed trainer per vedere un attimo la differenza? Ragazzi, le speed trainer sembravano senza suora a confronto. Infatti lei mi fa, eh, quelli lì sembra di che non hai nulla. Tipo un calzino, è vero. Quindi adesso torniamo a casa. Appena tornata a casa, unboxing delle mie nuove balettiaghe. Sono così carine. Questa è la mega bussa che mi sono trascinata in tutta Roma. Però voglio mettervi in una posizione dove si vede meglio, aspettate. Con la partecipazione di Wendy, il cagnolino, è vero? Ho dietro da sola, tutto il tempo senza la sua mammina. Poi quando sale sulla scatola, mi sembra di che no, faccio un diretto, un tip tap. Andiamo ad aprire questa mega scatolona. Allora, abbiamo la dust bag, che è a cinque volte quella dell'altra volta. Avete presente le fedele del cuscino, ecco. Poi ci sono gli elastici per cambiarli. Parto già prevenuta e vi dico che non a tutti piaceranno, ne sono convinta. E più per il prezzo che hanno, ancor peggio probabilmente. Però mi piacciono, che ci devo fare? Le stavo cercando da un'eternità. Questo colore non c'era mai, guarda caso oggi c'era. E sarà che ero stanca, avevo camminato, le cose della metro, bla bla bla. Ho detto, le prendo adesso e mi tolgo il pensiero. Quindi, le baby sono queste qui. Sì, sono proprio fatte così qua dietro. Cioè, che sembrano tipo usate, tra virgolette. Non lo so, raga, a me fanno impazzire. Cioè, poi viste così è un po' statica, sembra un po' mattone. Però, come vi dicevo prima, ho preso il 39. Come vedete, è tipo le scarpe da bullying, sono i numeri scritti qua. Il nome del modello è questo qui. E vista da sotto è una papagna. Cioè, guardate la mia testa, guardate la scarpa. Poi adesso ce le proviamo. Ecco le babies ai piedi. Solo che, non so, con questa tuta non mi convincono. Dovrei prendarle più con un leggings tipo di pelle. Oppure con un jeans. Non lo so, qualcosa di stretto. Perché appunto sono una papagnona, vedete? Ripeto, sicuramente non piaceranno. Però sono bombissime. Adesso ve le faccio vedere con la scarpa che avevo prima. Questa è questa e questa è la sta smitta. Che da sopra più o meno potrebbero equivalerci. Come faccio a farla vedere di profilo? Forse così è. Opsi! Così si nota. E devo dire che pensavo fossero molto più pesanti. Ma quelle sono pesanti. Le Jadon di Dr. Martens. Queste no. Poi diciamolo al panchino. Si sente tutto blablabla. Comunque prima mi erano arrivati anche questi stivaletti. Che ho preso da una pagina di Instagram. Molto carine. E poi questi sono dei pacchetti segretissimi. Ci devo fare un super progetto. Che prendrete molto presto. Ho degli swatches sulla mano. Di alcune cosette che appunto vi ho detto. Non posso farvi vedere. Dobbiamo ancora aprire questo. Quindi apriamo la numero 11. Altro prodottino labbra. Questo qui è un butter gloss nel colore Glazy Days. Molto carino. Un colore caramello. Comunque non so voi ma questi giorni non mi passano mai. Non lo so mi sembra così strano che siamo soltanto all'11 di dicembre. Cioè a me sembra già gennaio. E non faccio nulla di eclatante. Però forse è proprio questa la cosa sapete. Perché quando io andavo ad esempio in accademia. Mi sentivo più parte di qualcosa di più grande. Non so come spiegarmi. Cioè sentivo di fare qualcosa di utile e produttivo. E quindi magari i giorni mi passavano più velocemente. Infatti io mi ricordo che andavo lunedì. E il venerdì mi voleva con uno schiacco di dita. Mentre stare a casa è un po' una mezza noia. Io trovo sempre cosa fare perché io vabbè faccio un sacco di roba. Anche soltanto stando chiusa in camera ad esempio. Se rimanessi chiusa in camera una settimana farei comunque tante cose. Non sono una di quelle che non fa niente o si butta sul divano insomma. Che poi non so neanche come ho iniziato questo discorso. Vabbè. Nel mentre Gwenda ho visto che si è messa dietro i miei cuscini. Questo è quello che capita ogni tanto. Quando non trovi Gwenda. Eccoti. Vai rimani lì allora. Adesso metto a posto il bordellus. Mi strucco la mano e lavo anche i pennelli che ho usato prima. Ho fatto il post di cui vi parlavo prima. Forse ve l'ho detto? Vabbè. Comunque sono stata tipo un'ora attaccata al telefono. E adesso ho guardato l'orario e ho fatto porca miseria. Sono sicura che capita anche a voi. State facendo un'altra cosa. Poi mettete a leggere i messaggi. A vedere le storie. E bla bla bla. Eccola. E tempo vola. Quindi io mi sono struccata. Poggo la mia fascettina. Devo soltanto mettermi la crema. E poi mi è venuto un mal di testa. Raga. Sapete che soffro di mal di testa. Però durante il periodo X di noi donnine c'è ancora peggio. Oggi se persiste. Qualcosa mi prendo. Vediamo. Comunque per cena mi mangio un'insalata con la mozzarella. C'è una cosa proprio easy peasy lemon squeezy. In tutto ciò io ho ancora le scarpe ai piedi. Perché sentivo tipo una scarpa larga. E una più stretta. Poi mi sono rivelata che io ho un po' questo problema in giornale con le scarpe. Quindi sì le ho ancora qui. Questa. Questa la sentivo un po' larghina. Insalata con mozzarella anacardini. E tutte le mie varie cosettine. Con i pomodori. Comunque mi ero scordata di farvi vedere questo ombrettino. Che è di MAC. Mi è arrivato tramite Octoli. Dovrebbe essere della nuova collezione. Questo qui ha il nome. Si chiama shiny pretty shadow. Major win. Vedete la confezione che è argentata. L'ombrettino è questo qui. Che è tipo cangiante. Perché se lo vedete così è dorato. Se lo vedete così è tipo rosino. Vedete? È stranissimo. Cioè così è dorato. Così. Ha tutti questi riflessi che è una roba. Cioè guardate che pazzeschità. Infatti non vedo l'ora di farci un bel look. Vedete? Dorato. Cangiante. Ragazzi non potete capire la mia gioia. Hanno messo la seconda stagione di DC Legends of Tomorrow su Netflix. E sono la persona più felice dell'universo sinceramente. Anche perché suono 17 episodi la seconda stagione. E io mi ero firmata al 14esimo. Quindi lo sto rivedendo perché è un po' che non lo guardo. E poi continuerò a vedere gli altri. Solo che vedete sta cosa di Netflix che mette gli episodi delle stagioni dopo una cifra di tempo. È imbarazzante. Cioè ormai è arrivato a un livello che può benissimo metterle subito. E invece no. Comunque nel mentre mi sto mangiando anche qualche gallettina. Con un po' della mia mitica nozzolata. Vi giuro che non è sponsor. Ma se volesse mandarmi un camion pieno. La riguoni di Asiago libererò una stanza per mettere tutti i barattoli. Non ci crederete mai ma dopo secoli ce l'ho fatta a mettere a posto. Qui ho una pila di vestiti praticamente da tipo due settimane fatto. Tutto questo grazie al vlogmas di Guglielmo sempre. Che ne ha caricato uno oggi con scritto tipo metto a posto la mia vita. Mi sono lasciata ispirare dal flusso di energia positiva. Mi era potuta abbastanza soddisfatta. Poi dovrei mettere a posto questa bustona di Balenciaga di oggi che è immensa. Ho un po' un'ossessione nel tenere le scatole. Però questa è davvero troppo grande. Scopriremo tutto soltanto vivendo. Intanto io vi saluto per il vlogmas di oggi. Detto ciò vi mando un basone e noi ci vediamo domani. Vi aspetto eh. Ciao.